Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si è formato un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 315 tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud. Il traffico per il momento invece scorre in maniera regolare sulla FIPILI. Sulla statale Trebbi-Stiverina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144, 700, con chiusura dello svincolo di Pieve-Santo Stefano-Sud in entrata e uscita in direzione Orte. A Firenze, per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto, sono in vigore di vieti di transito nella piazza da Via delle Hortensi a Lungarno dei Pioppi e in Via degli Gustri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!